Nel tennis la parola Lucky Loser può avere un suono dolcissimo, soprattutto se legata al primo torneo dello slam della propria carriera. È quello che è avvenuto a Franco Agamennone, tennista ital-argentino che vive a Lecce ed è stato sorteggiato per disputare il primo turno dello slam di Parigi, il prestigioso Roland Garros. Agamennone, oggi numero 151 al mondo, aveva perso l'ultima partita per poter accedere di diritto alla qualificazione del torneo su terra rosa più importante del circuito mondiale di tennis. Tesserato Cintilecce è allenato da Andrea Trono, questa è la più importante partecipazione a un torneo dello slam della propria carriera, Un'opportunità per migliorare la sua classifica e perché no magari sognare di entrare nella top 100 intanto nel circuito tennis di Lecce si esulta per un risultato fortunato ma importantissimo per un ragazzo che si allena ed è cresciuto tanto all'ombra del barocco e sulla terra rossa del circuito tennis di Lecce.